È un'importante presentazione, la seconda in ordine cronologico, la cittadinanza di Montevarchi dei 25 anni del Calcet Valdarno, un quarto di secolo dove il Calcet Valdarno ha aiutato tante persone e ha fatto un passo grande con il registro dei tumori. Io credo il merito di questa nostra storia è tutta dei cittadini del Valdarno, delle istituzioni, perché noi siamo soltanto rappresentanti della grande forza del volontariato che c'è in questo territorio. Quindi io, grazie principale, vorrei dare ai nostri sostenitori a questa bellissima vallata dove è stata fatta tanta raccolta in denari, dove tutto questo è andato verso il sostegno dei nostri malati di tumore. È difficile a dirsi, ma purtroppo è questa la malattia che stanno trattando e credo che questa generosità è sotto gli occhi di tutti. 25 anni di storia, ormai 27 diciamo, dove abbiamo fatto tanta raccolta, abbiamo fatto credo tante cose anche per i nostri malati, mettendo a servizio loro all'interno dell'ospedale della Gruccia reparti come il centro oncologico, l'aeroterapia, il progetto scudo, l'acquisto di vari macchinari per la cura e per la, diciamo, prevenzione, diagnosi. La malattia oncologica purtroppo rappresenta ancora una malattia di una certa gravità. Ciò nonostante i progressi sia medici che chirurgici sono estremamente notevoli. Le tecnologie sono attualmente sviluppate e chiaramente avere il supporto anche di un'associazione che può aiutarci anche economicamente là dove non arriva o dove con più difficoltà può arrivare l'istituzione pubblica è ovviamente un vantaggio per tutti.